bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite ieri finalmente è arrivata la patch 14.40 anzi anche con un giorno di anticipo rispetto a quello che pensavo ed è stata una patch davvero incredibile perché ha portato tutto il fort nightmares nei file di gioco nelle partite pubblicamente ma anche con tante cose ancora nascoste innanzitutto cosa ne pensate vi piace questo fort ma questo fort nightmares 2020 oppure no nel video di oggi voglio farvi vedere le nuove collaborazioni che epic games ha deciso di fare parleremo di una collaborazione davvero incredibile vedremo un bel po di leaks l'arrivo di galactus e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un argomento che ha fatto un pochettino scalpore per quanto riguarda la community di fortnite ovvero sia sembrerebbe che stia per arrivare una nuova colorazione per lo school trooper molti dicono ma va voglio farvi vedere ragazzi questa immagine anzitutto sba school trooper blu da dove arriva questa immagine è un render ovviamente ma è stata presa dal trailer del fort nightmares non si è capito bene se è uno strano effetto di luce o se è veramente blu ma guardate un pochettino come vedete è palesemente blu ragazzi questo school trooper non è assolutamente la skin oggi quella viola e non è ovviamente del colore verde ed infatti come vedete lui nel trailer del fort nightmares non ci sono cambi di luce anche quando cambia potrebbe davvero essere la svolta e vedere un nuovo stile per lo school trooper che magari verrà dato a chi lo acquista quest'anno non lo sappiamo ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché una velocissima carrellata di tutte le skin che sono in arrivo con questo fort nightmares a partire dal pack ragazzi come vedete quattro le skin a tema di halloween dopo le rivedremo con calma ma tante altre skin mida il dottore che poi si va a trasformare in una specie di dottor jekyll e mister hide con tanto di emot integrata abbiamo la baba yaga abbiamo headlock il party trooper che abbiamo visto ieri nello shop ravina un'altra skin molto molto bella con due stili personalizzabili e poi tutta la serie di nuove default skin sono molto contento perché sono finalmente arrivate anche quest'anno tutte le skin dedicate ad halloween quelle un pochettino più creepy quello che mi piacciono e speriamo ovviamente che non costino troppo di vederle tutte nello shop il prima possibile ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sbam anche questa è una notizia che arriva come uno schiaffo e c'è la collaborazione di epic games con i ghostbusters gli acchiappofantasmi io spero che abbiate visto i film dei ghostbusters perché sono davvero un capolavoro una trilogia meravigliosa per quello che riguarda il cinema vi invito a guardarli non ve ne pentirete new ghostbusters archivment questa è la prima cosa che ci fa capire che c'è la collaborazione e il nome è I collect spores molts and fungus che è una frase che dice uno dei quattro ghostbusters egon quello con gli occhiali nel primo film dove gli viene fatta una domanda su quale sia il suo hobby e lui risponde io colleziono spore muffe e funghi questa è davvero meravigliosa come cosa e non vedo l'ora ovviamente di approfondirla ma ci sono delle cose molto interessanti innanzitutto il bundle dei ghostbusters che è formato dal ghostbuster gear ghostbuster crew ghostbuster patrol e poi c'è lo school squad pack questi tre che vi ho letto sono ovviamente le stringhe dedicate alla nuova collaborazione e sappiamo anche un'altra cosa i ghostbusters sono famosi perché hanno il loro zaino e lo zaino protonico ecco era chiamato così che rilasciava questo fascio di luce intensissimo che poteva appunto catturare i fantasmi lo zaino arriverà anche in game e sembra sia reattivo ma la cosa più importante che ci fa capire che la collaborazione è ufficiale è quella che succede e meglio quella che troviamo andando nell'isoletta in basso a campo merluzzo nascosta in una capanna guardate c'è la ecto 1 l'ecto 1 per chi non lo sapesse è la macchina e il veicolo che utilizzano i ghostbusters questa è un'immagine ovviamente presa da chi ha deciso di riproporla nella vita reale voglio farvi vedere comunque lo spezzone del video dedicato perché voi dovete andare in basso per cercarla per vederla in game e guardate qua in questo capanno nelle luci soffuse in mezzo alla nebbia si vede come è in arrivo anche l'ecto 1 io perdonate ma sono molto gasato per questa collaborazione in quanto amo tantissimo questo film questa trilogia e quindi vederli in game il mio battle royale preferito è una cosa davvero molto molto emozionante quindi non vedo l'ora che arrivino non vedo l'ora di poter vestire i panni di uno dei quattro e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriverà anche un'altra grande skin in questo in questo fortnite ma non è detto nel fortnightmers lo andiamo a vedere nel penultimo nella penultima riga di questa immagine ghost rider process e da vehicle during fortnightmers ghost rider è una delle legacy che viene fatta per questo fortnighters dovete appunto prendere il possesso di un veicolo ma è semplicemente anche un piccolo easter egg per quella che è realmente la skin di ghost rider che sembrerebbe essere pronta o meglio in lavorazione nei file di gioco e verrà proposta quanto prima non sappiamo ovviamente la data ufficiale ma è tanta tanta roba avremo modo di riparlarne nei prossimi video news e arriviamo all'ultimo argomento di oggi perché ci sono anche delle nuove informazioni per chi non se ne fosse accorto c'è il nuovo battle pass tab quindi il tavolo che vediamo nella pre lobby è stato aggiornato o forse dovrà ancora essere aggiornato con questa immagine dove è chiaro che il galactus si sta avvicinando per adesso non è ancora entrato diciamo a tiro ecco non lo riusciamo a vedere così bene ancora lì nel cielo e quindi ci aspettiamo che magari con la patch 14.50 che dovrebbe arrivare fra una quindicina di giorni sicuramente ci saranno delle informazioni anche per il galactus insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate alle 8 in live su twitch ciao ciao